Le donne che vogliono un uomo già di successo sono individui di sesso femminile che non hanno voglia di aspettare il premio, bensì desiderano il famoso tutto e subito. Ma facciamo un passo indietro. Quando un uomo si definisce di successo? Beh, generalmente un uomo di successo è un uomo che ha avuto dei risultati degni di nota in ambito professionale. Quindi si tratta di un individuo di sesso maschile che è stato in grado di emergere e distinguersi per merito. Un uomo per diventare di successo deve fare un percorso e qui c'è già il primo grande spartiacque. La donna vuole un partner già di successo mentre l'uomo per essere considerato tale deve farsi il mazzo. Vediamo ora quali sono gli elementi che caratterizzano l'uomo di successo. Uno, mentalità. L'uomo di successo è tale perché ragiona in modo diverso rispetto alla massa. Quindi in primis è il modo di ragionare fuori dal coro che colpisce la donna. Tante volte gli uomini di successo sono persone abituate a non mollare, autodisciplinate e pronte a rischiare fino all'ultimo. In un mondo in cui regna sovranna la ricerca delle certezze immediate e dovute, questo attrae l'interesse femminile. Due esperienze. L'uomo di successo è frequentemente una persona che ha fatto molte esperienze di valore nella propria vita. Ad esempio ha fatto lavori prima umili e poi gradualmente è arrivato a ruoli più interessanti e di prestigio. Quindi è un soggetto che ha avuto un percorso di crescita e sviluppo non comune. Ed è proprio questo che attira la curiosità femminile. Perché la donna può trarre insegnamento da ogni conversazione. Tre risultati. L'uomo di successo è tale perché alle spalle ha dei risultati effettivamente conseguiti e questo suscita l'interesse femminile perché fa percepire il suo senso di direzione e la sua forte capacità a far parlare i fatti anziché le parole. L'uomo di successo fa l'azione. L'uomo di insuccesso rimanda. Quattro status sociale. L'uomo di successo solitamente è molto conosciuto. L'uomo di insuccesso invece è poco conosciuto. Ed è ovvio che più connessioni sociali ha un individuo più è famoso e riconosciuto. Ergo qualsiasi donna lo reputa più appetibile rispetto ad un uomo totalmente sconosciuto. Cinque valori. L'uomo di successo è tale perché ha fatto un percorso e spesso anche lungo e tortuoso. Si tratta di una sequenza di eventi e di episodi che insegnano qualcosa. Un mio mentore diceva tutto ciò che vale costa impegno, tempo, energie, soldi. Quindi durante il percorso si sviluppano anche dei valori comportamentali non banali e questi ultimi sono merce rara da trovare. Un limone al giorno è il nostro secondo libro uscito il 2 gennaio 2023. Anzi a dire il vero non è un libro tradizionale bensì è un libro game ma c'è di più è l'unico libro game di seduzione al mondo. Lo trovi al sito unlimonealgiorno.it dove potrai prenotarlo e riceverlo poi in forma anonima a partire da febbraio 2023. a partire da febbraio 2023.